Incidente mortale oggi, sabato 13 ottobre intorno alle 17 in via Primo Levi a Rivoli. Coinvolto in un furgone e una motocicletta Harley Davidson. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato sulla moto nel fossato che costeggia la carreggiata. Inutili tentativi dei soccorritori del 118 giunti sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Rivoli, la polizia locale e i carabinieri, di salvare la donna che si trovava sul stellino della moto riservato a passeggero. Il centauro alla guida, subito soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Rivoli per un'operazione d'urgenza, mentre l'autista del furgone, ferito, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Grazie. 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 Grazie.